L'attesa è finita, la prossima settimana consegnerete i lavori nella cantiere della Galleria della Guinza per sbloccare la nostra regione. 12 febbraio, una data da evidenziare nel calendario della regione Marche, ma io dico del centro Italia, perché finalmente dopo decenni si avviano i lavori alla Galleria della Guinza e all'otto successivo di raccordo alla Galleria per iniziare finalmente questo collegamento che attendiamo ormai, ce lo diceva Napoleone, dal 1800 per collegare la nostra provincia, la regione Marche e la Toscana. Qual è l'importo complessivo dell'intervento e quali saranno le tempistiche? Stanziati 150 milioni, 120 sono quelli dedicati all'otto due e all'otto tre, quindi al raccordo e all'adeguamento della Galleria. I restanti 30 milioni saranno destinati invece al completamento della progettazione di tutti gli altri lotti mancanti, perché vogliamo far sì che dopo la Galleria si inizi subito a lavorare in tutti gli altri lotti, per avere finalmente un collegamento che tagli fuori dal traffico, soprattutto quello pesante, le nostre città lungo la Valle del Metauro fino ad arrivare a Mercatello, in Umbria e poi in Toscana e finalmente si compia questo sogno. In quanto tempo? I lavori della Galleria del Raccordo prevedono lavori per due anni, due anni e mezzo, che porteranno subito un vantaggio economico ai territori, perché le maestranze si fermeranno proprio nel nostro territorio e sosterranno anche durante i lavori l'economia di tutta quella zona della provincia di Pesaro e Urbino, per poi andare avanti nei prossimi anni e completare il sogno dei marchigiani di vedere sviluppare l'economia e di far sì che i nostri giovani possano lavorare laddove vivono. Assessore, è stato un gioco di squadra? Sempre. I grandi risultati si raggiungono soltanto se la filiera istituzionale e quella economica in una regione, tra l'altro piccola come la nostra, si uniscono per raggiungere un obiettivo e un risultato. Grazie quindi a tutti coloro che hanno partecipato insieme a noi al raggiungimento di questo grandissimo risultato per la nostra regione, per il centro Italia e per il sistema paese. Grazie.